Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo vlog del sabato, oggi volevo parlarvi di polverone che c'è stato in questa settimana anche 10 giorni su YouTube Italia e quindi c'è la questione tra Passion Makeup89 e YouTube fa cagare, che poi in realtà non è stata proprio una questione praticamente per chi non conosce YouTube fa cagare è un canale tenuto da un ragazzo che si chiama Simone il quale è uscito da un po' di tempo ed ha spopolato, ha fatto centinaia di migliaia, quasi 400.000 iscritti in pochissimo tempo che cosa fa questo ragazzo? Questo ragazzo fa dei video critica a dei canali YouTube che secondo lui tendono a prendere in giro la propria utenza a fare i video falsi eccetera eccetera, fa delle critiche abbastanza molto sensate, a me i suoi video a dire la verità piacciono per come sono fatti fa delle critiche fatte bene, non usa violenza né verbale né di altro tipo, dice di essere sempre molto aperto al dialogo a quanto pare è vero e tempo fa, la settimana scorsa, due settimane fa, super giù adesso non ricordo ho fatto un video contro la diva del tubo che per chi non la conosce è un'altra YouTuber un po' abbastanza scandalosa però vabbè lasciamo perdere questo, ho fatto un video contro questa ragazza, un video di critica a questa ragazza questa ragazza si è abbastanza indispettita, per farvi capire chi è questa ragazza adesso questa ragazza sta intrattenendo un rapporto sessuale e di lavoro con Andrea Di Pre quindi vi posso immaginare, pubblica, se andare su YouPorn o qualcosa si trova pure io sono andato a vedere per curiosità perché non lo sapevo e quindi immaginate che tipo è questa, praticamente lei è andata alla ricerca, non so come ha fatto ha scovato un vecchio canale che aveva Simone, ragazzo che gestisce YouTube fa cagare quando aveva 19 anni, canale che si chiamava Generazionale e in questo canale lui praticamente faceva dei video troll dove prendeva in giro altri canali diciamo il suo format era super giù lo stesso rispetto ad adesso però non è minimamente paragonabile, all'epoca erano veramente video inguardabili fatti per pochissimi iscritti e molto molto stupidi, adesso sono tutt'altro però diciamo è rimasto sempre comunque quello il suo tipo di contenuto tra questi video ce n'era uno contro Passion Makeup89, contro Alessia che poi per chi si ricorda magari di più attenti di voi è la ragazza con cui io feci tempo fa il video è collaborazione sull'obesità è un video quello che fece Simone dove la prendeva in giro per la sua obesità dove la chiamava cicciona di merda, obesa, sudata siccome lei all'epoca faceva molti video sui trucchi ma come i trucchi, ma vatte a fare una dieta invece dei trucchi ma segnate in palestra cicciona, roba del genere quindi si è subito alzato un polverone su dice ma come, Youtube fa cagare che è quello che il moralizzatore di Youtube quello che doveva salvare Youtube dalla rovina in realtà è come tutti gli altri diciamo che sul carro sono saliti in tanti da quando è nato, da quando è uscito fuori Youtube fa cagare, su quel carro ci sono saliti in tanti se vi andate a vedere uno dei suoi primi video che ha avuto il bot ci sono molti Youtuber grossi che sono andati sotto il suo canale a scrivergli ciao, bravo, ci voleva uno come te bravissimo, un po' come stargli a dire mi raccomando sul Demervito non lo fa e quindi sono saliti ancora sul carro, ci sono una marea di Youtuber che hanno fatto delle live addirittura di 4-5 ore video per parlare di questa cosa io logicamente ho aspettato innanzitutto conoscendo Alessia ho parlato con lei e le ho detto che non volevo fare un video su questa cosa invece poi Alessia mi ha detto ma sai che ti dico Marco dice forse tu sei uno dei pochi che lo può fare primo perché mi conosce secondo perché conosci il problema del cyberbullismo, dell'obesità eccetera eccetera dice quindi sicuramente sei più è meglio che lo faccia tu rispetto a tanta altra gente c'è gente che nel suo canale fa Minecraft esclusivamente Minecraft che si è messo a fare un video su questa cosa per cavalcare l'onda come vedete io nel titolo non ho scritto né PassionMaker89 né Youtube fa cagare perché non mi interessa andare a cercare iscritti nuovi parlando di questo è un video che faccio per comunicare con l'utenza che già mi segue per entrare bene a fondo nella questione vi consiglio di andarvi a vedere i video che hanno fatto i diretti interessati cioè Alessia, PassionMaker89 Simone, Youtube fa cagare io tendo a dire la mia brevemente in un minuto credo che sì Simone si giustifica dicendo io a 19 anni ero un merito cretino ero un deficiente mi vergogno di aver fatto quel video purtroppo non l'ho potuto cancellare perché ho perso le credenziali di accesso a quel canale non sono più quella persona mi vergogno chiedo scusa e adesso sono cambiato Alessia giustamente dice va bene io posso anche accettare le tue scuse il fatto è che non so se queste scuse siano sincere o meno perché arrivano adesso che è uscito tutto e che a te serve farmi le scuse se veramente avessi voluto farmene quando hai avuto questo cambiamento me le avresti fatte adesso sinceramente io le accetto però nei miei panni magari che io possa pensare che siano scuse finte scuse di circostanza che tu in realtà non sia veramente cambiato dici che io non lo posso sapere io condivido in pieno il pensiero di Alessia nel video che hanno fatto insieme cioè uscito sul canale di Youtube fa cagare a me l'impressione che ho avuto io guardando quel video e non conoscendo Simone sia che l'interesse principale di Simone anche giustamente sia fosse quello di uscirne più pulito possibile da questa faccenda mentre invece Alessia è riuscita comunque a mandare un messaggio importante contro l'obesità su questo problema però diciamo che dall'altra parte non ha trovato molto terreno fertile per instaurare una conversazione un discorso importante su questo tema però obiettivamente non era neanche quello forse l'ambito migliore per parlarne non era quello lo scopo del video quindi dopo avervi fatto questa introduzione che è durata più di quello che doveva durare voglio velocemente parlarvi un attimo di quello che obiettivamente sta diventando un problema molto grosso molto grande del cyberbullismo allora il bullismo è sempre esistito non ci stiamo a prendere in giro esisteva 10 anni fa ne esisteva 20 esisteva 30 esisteva 40 esisteva anche quando io andavo a scuola il discorso però qual era? il discorso era che quando tutti siamo stati magari sia bulli che bullizzati non ci prendiamo in giro magari chi più chi meno io ricordo che quando andavo a scuola venivi a sapere le cose se non le vedevi tu prima persona magari le venivi a sapere incontravi il tuo amico e quello diceva ma lo sai che Andrea ha menato a Alessandro? e tu dici ma che davvero? quindi era un passaparola molte cose poi diventavano leggendarie proprio perché venivano da mandare bocca in bocca ognuno ci aggiungeva qualcosa quindi venivi a saperlo in quel modo poi sì per carità era sempre bullismo ma adesso adesso che gli smartphone fanno parte della nostra vita come se fossero aria tutto è diventato non più tra i diretti interessati e la cerchia magari di amici e conoscenti scusate ma io ho dei capelli assurdi vabbè non siete abituati è diventato un qualcosa che addirittura ormai è di uso comune si mette su facebook si mette su youtube si li linkano quindi magari qualcuno che subisce una viene bullizzato anche chi magari non lo conosce viene a vedere questi video e questa persona posso semplicemente immaginare cosa succede adesso questo non vuole essere un video impegnatissimo è solamente un vlog per rifletterci un attimo su quanti sono i casi di suicidio di ragazzi di quanto sono incrementati i casi di suicidio di ragazzi e ragazze soggette a bullismo oppure a ragazze che hanno visto i propri video di prestazioni sessuali spiattellati dappertutto non voglio stare a fare i casi specifici di Ziana Cantone eccetera c'è stata una ragazza canadese qualche anno fa a cui è successa la stessa cosa quindi io non so sinceramente quale sia la quello che la cura diciamo come evitare questa cosa io credo che tutto nasca dall'educazione credo che il problema principale sia quello non ci sono contromisure da prendere non serve vietare gli smartphone nelle scuole perché non servono queste pratiche e purtroppo tutto nasce dall'educazione che i genitori danno ai propri figli all'interno delle proprie case e quello che le scuole riescono e le scuole dovrebbero implementare l'educazione che i genitori danno a casa purtroppo tutte queste due queste due istituzioni importanti come la scuola e la famiglia ultimamente latitano perché anche dove c'è una famiglia dietro la scuola ormai non ha più potere perché basta che un insegnante riprende un ragazzo per poi essere pestato come è successo dai genitori del ragazzo qualche giorno fa a Palermo a volte la scuola può poco quando non c'è una famiglia dietro quando la famiglia del ragazzo latita quindi io quello che dico è questo l'unica cosa che si può fare sono magari delle politiche sociali delle delle campagne di sensibilizzazione a tutti i livelli della società perché purtroppo e dico purtroppo si vede ancora purtroppo il razzismo semplicemente come un problema di uomo bianco contro uomo nero italiano contro straniero quella è xenofobia oltre al razzismo il razzismo è un fenomeno più complesso se dici negro di merda uno sei razzista se dici ciccione di merda uno sei simpatico è questo quello che voglio cercare di farvi capire non sto giustificando che dici negro di merda io li metterei tutti su un palo specifichiamoci e specifichiamo bene però credo che bisogna cercare di fare entrare nella cultura delle persone che anche la presa in giro per la diversità fisica psicologica è comunque una forma di razzismo quello che posso dire io nella mia esperienza almeno se non io sono sempre stato un ragazzo alla fine abbastanza forte per carità gli insulti le cose mi hanno fatto soffrire mi fanno soffrire tuttora però credo che comunque sono sempre riuscito a rimanere in piedi molte persone non ce la fanno quindi quello che vi chiedo è a tutti voi che vedete questo video cercate di magari sensibilizzarvi un po' di più se siete persone che ridono abbattute su obesi su ciccioni su nani su di tutto e di più cercate magari di sensibilizzarvi e cercate di sensibilizzare chi è intorno a voi è un video magari ragazzi un po' frettoloso un video che tratta argomenti seri che andrebbero trattati magari in maniera migliore mi piacerebbe magari fare un video una volta un po' più curato su questa cosa oggi mi sono limitato a farne un accenno partendo da quello che è stato il caso di Alessia e Simone io credo ripeto Simone a me piacciono i suoi video continuerò a guardarli purtroppo come ha detto Alessia non possiamo sapere se si è pentito veramente o meno questo lo sa solo lui crediamogli non abbiamo diciamo motivi per cui non credergli possiamo basarci semplicemente su quello che vediamo il suo canale adesso è tutt'altro quindi io tendo gli credo e basta non lo conosco personalmente do ancora una volta un bacione a Alessia le faccio i complimenti per come ha reagito perché comunque un video del genere che riesce fuori un canale che ha quasi 400.000 iscritti dove ti dicono quelle cose non è facile lei invece ha reagito alla grandissima è stata veramente una ragazza speciale Alessia ed è riuscito in tutto questo comunque anche a mandare un bel messaggio a tutti quanti contro l'obesità per trovare dentro di noi per chi ha questo problema magari la forza per andare ancora avanti e combattere questa malattia perché nonostante molte persone mi scrivano in privato ciccione di merda non è una malattia l'obesità è una malattia e non sono io a dirlo ma l'organizzazione mondiale della sanità quindi ragazzi vi saluto fatemi sapere cosa vi pensate di questo video commentate condividete fate quello che vi pare e ci vediamo al prossimo ciao ciao